alluvione ripristinati servizi essenziali arrivano i primi ristori torna il terremoto nel sud delle marche 5 scosse ma nessun danno diamanti acquistati a prezzo maggiorato truffati 100 clienti una banca ex amga da terra inquinata a parco urbano domenica le giornate del patrimonio fra Oliveriana e archivio di Stato giovedì 22 settembre ben ritrovati al nostro telegiornale Rossini News telegiornale che apriamo occupandoci degli ultimi aggiornamenti sull'alluvione dove continua la ricerca dei dispersi e continuano anche le indagini per chiarire eventuali negligenze e responsabilità intanto nei territori di Cantiano, Serra Sant'Abbondio e Frontone si stanno ripristinando i servizi alla cittadinanza e arrivano i primi ristori Mentre continua la ricerca dei dispersi dopo una settimana che ha portato tante tracce ma non il ritrovamento del bambino di 8 anni Mattia Luconi né quello della 56enne Brunella Chiù continuano anche le indagini per accertare eventuali negligenze e responsabilità sulla catastrofe ambientale dopo che le procure di Ancone e Urbino hanno aperto due fascicoli di indagine questa mattina il presidente della regione Marche Acquaroli ha annunciato l'istituzione di una commissione tecnica per svolgere una indagine finalizzata all'accertamento della regolarità e della proprietà delle procedure adottate da parte delle strutture organizzative della protezione civile regionale evidenziando eventuali disfunzioni e responsabilità sull'evento alluvionale politica che procede all'accertamento di eventuali negligenze ma anche alla prima erogazione dei ristori dopo i 5 milioni di euro stanziati dal Consiglio dei Ministri e i due aggiunti da Regione e Camera di Commercio Quello che oggi serve è essere veloci nel senso che le famiglie e le imprese hanno bisogno di aiuti questi aiuti devono arrivare in tempi rapidi ma soprattutto bisogna fare in modo che quelle che saranno le domande che i cittadini potranno fare siano semplici non possiamo pensare di far fare come dire che si vogliono dei tecnici per poter compilare una domanda le persone i danni li hanno avuti e quindi è importante riuscire come dire con poca burocrazia e anche velocità io sono stato in questi giorni in queste zone devo dire che ho trovato persone veramente molto motivate le persone hanno voglia di rimettersi in piedi, di riaprire le proprie attività l'unica cosa molto bella che ho visto è che ci sono molti giovani che stanno aiutando appunto sono presenti in queste zone e quindi noi come classe politica non possiamo deludere queste persone e quindi cercare di dare risposte in tempi rapidi Intanto nelle Pesarese si sta provando a riacquisire una parvenza di normalità a Cantiano sono stati ripristinati tutti i servizi primari ed è arrivato anche l'esercito a supportare la comunità Siamo su tutte le situazioni emergenziali ormai quasi risolte nella loro parziale e provvisoria soluzione tutte le frazioni sono state liberate quindi ad oggi sono raggiungibili seppure in maniera parziale e temporanea abbiamo sui fiumi sul letto dei fiumi in un accordo con il genio civile regionale i mezzi pesanti per il ripristino degli argili quindi sia sul Burano che sul Bevano che sul Tenetra e abbiamo avuto ieri l'ispezione da parte dell'esercito quindi in campo in ulteriore ausilio abbiamo anche il dipartimento dell'esercito nazionale che verrà coinvolto su alcune situazioni più particolari legate alle infrastrutture del dopo emergenza E se il nord delle Marche è alle prese con le ferite dell'alluvione la parte meridionale della regione torna a vivere l'inquietudine del terremoto sisma che è tornato a farsi sentire nella Scolano con 5 scosse comprese fra le 12.24 e le 12.45 di oggi l'epicentro è stato nel comune di Folignano a circa 4 chilometri di profondità tante scuole della Scolano sono state precauzionalmente evacuate ma non si registrano danni Ed ora cambiamo argomento ci occupiamo di un'operazione della Guardia di Finanza che ha visto centinaia di clienti di una banca del territorio fanese venire truffati per investimenti di diamanti e pietre preziose venduti a prezzi maggiorati rispetto al loro reale valore e questa è la truffa milionaria in cui sono incappati centinaia di risparmiatori del territorio pesarese e fanese una truffa portata avanti da una società che agiva attraverso un sistema bancario si tratta di una frode scoperchiata dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Fano su lunga indagine delegata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesero un'indagine nata in seguito a diverse querele nei confronti di un istituto di credito cooperativo pesarese querele da parte di correntisti della banca in questione che lamentavano di essere stati raggirati avendo acquistato diamanti e preziosi tramite la stessa banca che prefigurava investimenti fruttuosi con l'auti guadagni in prospettiva l'indagine ha scoperto che lo stesso istituto bancario fungeva da intermediario di una società di capitali operante nel commercio di pietre preziose con la quale avrebbe stipulato un accordo illecito inducendo in errore centinaia di risparmiatori in cambio di consistenti provvigioni a completare la frode il fatto che la società venditrice avrebbe falsificato le quotazioni dei diamanti da investimento riuscendo a pubblicare anche ingannevoli annunci sulle pagine economiche di un giornale nazionale l'indagine ha scoperto un centinaio di vittime che avrebbero corrisposto circa 2 milioni e mezzo per l'acquisto dei diamanti generando provvigioni per 300.000 euro incassate dalla banca sono state così denunciate 16 persone oltre al rappresentante legale della società venditrice di diamanti denunciati che dovranno rispondere di reati di truffa aggravata, corruzione e autoriciclaggio anche la banca è stata deferita all'autorità giudiziaria per responsabilità amministrativa nel non aver adottato modelli organizzativi funzionali a prevenire simili reati interni intanto però l'istituto di credito che ha incorporato la banca ha già provveduto a risarcire il 90% dei correntisti che avevano acquistato i preziosi e torniamo a parlare dell'omicidio avvenuto nella provincia di Pesaro Urbino quello di Natalia Chiricoc uccisa con 12 coltellate la notte di Natale dal marito Vito Cangini nella loro casa di Fanano di Gradara. L'ottantenne Cangini è stato condannato a 24 anni di carcere ma dopo otto mesi ha lasciato ora la sua cella del carcere di Villa Fastigi dopo l'istanza degli avvocati che ne hanno disposto la concessione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a causa del riscontro delle precarie condizioni di salute di Cangini giudicate incompatibili con la misura cautelare in carcere. Torniamo a parlare di Piazza del Popolo di Pesaro degli scavi che si stanno tenendo dove anche oggi per il terzo giorno consecutivo sono state trovate altre ossa di scheletri di epoca medievale nello scavo archeologico che è stato allestito all'angolo di Piazza del Popolo con via Giordano Bruno. Dopo i due teschi di martedì e le ossa di gambe rinvenute ieri altri arti sono stati recuperati questa mattina procede serrato il lavoro degli archeologi dell'impresa Tecne supervisionati dalla soprintendenza delle province di Pesaro e Ancona una situazione che come potete vedere sta generando un continuo via vai di curiosi nella piazza non solo per il ritrovamento di reperti umani ma anche per quello del muro di epoca antica che sta affiorando invece di fronte al Palazzo delle Poste il tutto mentre procedono regolarmente i lavori di rifacimento della pavimentazione della piazza Continuiamo e restiamo in Piazza del Popolo per mostrarvi questo intervento dei vigili del fuoco che attorno alle 13 di oggi sono saliti con un'autoscala sulla cima della prefettura in seguito ad una chiamata relativa a problemi di infiltrazioni che riguardavano il tetto del Palazzo Ducale infiltrazioni che stavano recando danni ad una sala importante dello stesso edificio ma che sono state tempestivamente sistemate dagli stessi vigili del fuoco Ed ora in questo prossimo servizio andiamo a vedere come procede la bonifica dell'area dell'ex AMGA un'area della città di Pesaro inquinata e contaminata che sta rinascendo in parco urbano grazie a procedimenti scientifici che ci vengono illustrati in questo prossimo servizio Da terreno inquinato, contaminato e abbandonato per anni ad un parco con oltre 300 specie vegetali fra alberi, arbusti, cespugli e persino un laghetto Prosegue così la bonifica naturale del sottosuolo dell'ex AMGA terreno compreso fra centro direzionale Benelli e via Morosini un'operazione innescata dopo l'accantonamento dell'iniziale progetto di rimozione della terra inquinata del sottosuolo Ora si procede con la bonifica attraverso fitotecnologia ambientale operazioni condotte a braccetto dagli studi dell'Università della Tuscia assieme a Comune di Pesaro e ARPAM Una bio-fitobonifica che è stata divulgata nelle sue fasi procedurali scientifiche in un appuntamento tenutosi nei giorni scorsi in provincia L'intervento ha l'obiettivo di recuperare la parte residuale di inquinamento presente nell'area quindi dopo che è stata fatta la prima parte di scavo, rimozione, sorgenti primarie di contaminazione rimangono i terreni con la presenza ancora di contaminanti a varie profondità quindi abbiamo agito attraverso quella che si chiama bio-augmentation cioè l'inserimento di microorganismi degradatori raccolti nel sito, moltiplicati e li abbiamo reinseriti scavando delle trincee questo impianto e questo inoculo lo abbiamo sfruttato e accompagnato anche con la vegetazione arborea, arbustiva, erbacea che accompagna il processo e gli dà sostenibilità anche in futuro generando quindi un sistema più articolato, vitale che genera subito una serie di benefici ambientali e nel frattempo procede la bonifica attraverso la degradazione dei contaminanti organici ancora presenti La cosa particolarmente innovativa è il fatto che con questa tecnologia di bonifica oltre ad ottemperare quindi all'obiettivo principale che è la bonifica dei terreni contaminati avremo con la piantumazione di questa vegetazione anche ulteriori benefici ambientali tra cui appunto la rimozione della CO2 atmosferica abbiamo anche una riduzione dell'irraggiamento solare dovuto agli edifici circostanti e un aumento degli habitat quindi un beneficio nei confronti della biodiversità del sito e sicuramente un miglioramento delle percezioni visive del luogo e questo risulta essere un aspetto fondamentale proprio perché il sito in cui ci troviamo è un sito che si trova in un'area in un contesto residenziale quindi fortemente urbanizzato e antropizzato e anche l'occhio quindi sicuramente ha bisogno della sua parte Area residenziale che avrà bisogno di almeno altri 5 anni prima di essere percorribile dai residenti Il progetto ha una sua definizione temporale nei 5 anni che si basano su monitoraggi ripetuti e continui quindi in accordo ai monitoraggi poi ci saranno scelte eventualmente da fare in fase di destinazione o chiusura o collaudo della bonifica avvenuta eventuale In caso quello dell'ex AMGA che negli ultimi anni è stato seguito passo passo dall'assessore Aidi Morotti che nell'incontro tenutosi in provincia si è rivolta agli studenti del Marconi e del Cecchi per enfatizzare l'impatto umano alla base di questa vicenda Quando parliamo di bonifica noi stiamo cercando di far capire l'importanza che la bonifica dell'ex AMGA ha per la città però bisogna fare un passo indietro perché se non ci fosse stato un intervento impattante dell'uomo non ci sarebbe stata la necessità di fare una bonifica Pertanto quello che ho voluto far capire ai ragazzi è che qualunque tipo di comportamento noi abbiamo nei confronti dell'ambiente circostante, della natura, della nostra città in generale e di tutto il mondo poi perché vale un po' per tutti si ripercuote un po' a tutti i livelli nelle generazioni successive Avremmo potuto fare delle scelte diverse perché l'ex AMGA avrebbe potuto essere bonificata con costi diversi, con tempistiche diverse facendo un grande cratere portando via con lo scavo tutto quello che era inquinato ma non avremmo fatto altro che trasferire il problema dal luogo nostro fino al luogo della discarica quindi trasferire un problema di inquinamento dalla nostra popolazione alla popolazione che avrebbe vissuto vicino agli impianti che avrebbero ricevuto questo materiale inquinato si è scelto di avere un approccio totalmente ecologico un approccio, anche una forma di economia circolare nel senso che abbiamo ritenuto di mantenere tutto quello che era nel sito sia il bene che il male, di trasformarlo usando i batteri del sottosuolo che erano già presenti e moltiplicandoli, innestando nuove piante, depurando l'acqua per usarla nel laghetto e per fare poi l'innaffiamento della zona verde quindi abbiamo cercato di essere totalmente sostenibili e di usare tutte le risorse che era possibile mettere in campo nel sito e sul sito Mancano tre giorni alle prossime elezioni infatti domenica 25 settembre si andrà a votare e allora noi proseguiamo la marcia d'avvicinamento alle urne andando a conoscere questa sera la candidatura del terzo polo in questa intervista Federico Talè di Italia Viva Il tema dei temi, quello che riguarda invece sia il discorso commerciale ma anche quello delle famiglie, quello soprattutto legato all'energia e quindi noi che siamo il terzo polo e che ci chiamiamo l'Italia sul serio, il nostro slogan diciamo che le nostre proposte soprattutto per quanto riguarda l'energia ma anche, lei mi diceva, della sanità sono proposte che non hanno colore non sono né di destra né di sinistra ma sono le proposte vere, le proposte serie che risolvono i problemi, che provano a risolvere i problemi dell'Italia io dico sempre che ho due figli, uno di 20 e l'altro di 17 tengo al mio futuro ma tengo molto anche al loro futuro e se tieni al futuro nostro ma anche dei nostri figli non puoi non pensare a una riforma per quanto riguarda l'indipendenza per arrivare all'indipendenza energetica radicale ecco, sia il centro-destra che il centro-sinistra hanno delle contraddizioni bestiali sulle loro proposte non dimentichiamoci che la Meloni fino a ieri raccoglieva le firme contro i rigasificatori cosa che invece noi mettiamo tra i primi punti per risolvere nel breve periodo il discorso energetico e noi lo facciamo perché al nostro interno non abbiamo nessun alleato che è contro questa cosa il programma nostro, quindi io vengo da Italia Viva con il programma di azione sono due programmi identici ci contraddistingueva un pochino la questione del reddito di cittadinanza perché noi dicevamo che lo abolivamo del tutto loro dicevano che lo in qualche modo rivedevano ci siamo allineati quindi rivedremo il reddito di cittadinanza lo rivedremo in soldoni dicendo che alla prima offerta di lavoro logicamente chi prende il reddito se non l'accetta il reddito di cittadinanza non lo avrà più non solo ma chi prende il reddito di cittadinanza è giusto anche che si formi quindi vada a fare un corso di formazione perché in Italia serve un sacco di operai, di gente specializzata che nelle nostre fabbriche non si trovano per tornare al discorso energetico quindi noi siamo per le energie rinnovabili come dicono tutti però noi lo siamo davvero cioè non è possibile che non riusciamo a mettere una pala eolica sul Catria io per il lavoro che faccio sono stato nel pool di persone che doveva rimpiantare una pala eolica già presente nel Catria beh, non siamo riusciti a rimettere la pala eolica perché per i lacci e i laccioli per il mondo ambientalista perché anche una pala eolica fa impatto ecco, ho detto della Meloni con i rigasificatori ma nel centro-sinistra è la stessa identica cosa cioè energie rinnovabili poi abbiamo il mondo ambientalista che gli fa impatto anche una pala eolica ecco, quindi le proposte serie per un'Italia sul serio come diciamo sempre ce le abbiamo noi del terzo polo L'autunno degli eventi del territorio legati al tartufo perde la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Pergola ieri l'amministrazione della sindaca Simona Guidarelli assieme al direttore di Confcommercio Marche Nord ha ufficializzato la rinuncia all'allestimento della fiera in programma nelle prime tre domeniche di ottobre a causa delle gravi criticità legate all'alluvione che hanno provocato danni ingenti in tutto il territorio comunale si svolgeranno invece regolarmente le altre fiere la prima a cominciare il prossimo 30 settembre sarà la mostra mercato del tartufo di Apecchio che fra due weekend celebrerà il suo quarantesimo anniversario periodo di fiere del tartufo ma anche di feste dei fiori oggi è stato tagliato il nastro all'edizione 2022 di Fano Fiorisce che si terrà al Pincio fino a domenica 25 la festa dei fiori di Pesaro invece è ancora in attesa delle date ufficiali ma salvo controordini si terrà dall'1 al 3 ottobre e sarà eccezionalmente in Viale della Repubblica a causa dei lavori in Piazza del Popolo Centro Storico di Pesaro che domenica pomeriggio vedrà invece svolgersi le giornate europee del patrimonio con un'iniziativa aperta al pubblico organizzata da Archivio di Stato e Biblioteca Oliveriana è un evento che consiste in un wallscape per le vie cittadine abbinato a due esposizioni documentarie una all'Archivio di Stato e una in Biblioteca Oliveriana il titolo di questa iniziativa è principalmente alle cose patrie filantropi e mecenati della cultura a Pesaro tra XVIII e XIX secolo abbiamo riflettuto sul tema che è stato proposto a livello europeo che era quello della eredità sostenibile del patrimonio culturale sostenibile e l'abbiamo diciamo calato nella realtà pesarese riflettendo sui personaggi sui benefattori della cultura per la nostra città il tema infatti che si affronta in questa giornata del patrimonio è quella di ricordare i filantropi e i mecenati che hanno contribuito appunto all'arricchimento culturale della città di Pesaro ovviamente non potevamo dimenticare i nostri fondatori in particolare Annibale Olivieri ma anche Giovanni Battista Passeri che hanno fatto sì che la Biblioteca e i Musei Oliveriani nascessero a fine del Settecento ma insieme a loro ricorderemo anche tanti altri personaggi che sono vissuti prima o anche dopo e che hanno lasciato alla città di Pesaro la Biblioteca Oliveriana ma in realtà la città di Pesaro e tutti i cittadini pesaresi le loro raccolte culturali sarà possibile quindi in questa occasione ricordare ad esempio anche un'altra famiglia la famiglia Antaldi che è stata importantissima a Pesaro e in particolare Ciro Antandi Saltinelli che a fine Ottocento ha lasciato a Lento Olivieri una ricca raccolta documentaria e anche di oggetti importanti che vale la pena appunto ricordare a tutti i cittadini neanche quelli che magari sono meno abituati a frequentare le sale della biblioteca ma che grazie a queste iniziative potranno conoscerci o riscoprirci è un modo per vedere in modo diverso con occhi diversi ciò che visitiamo ciò che guardiamo e in questo caso è proprio diciamo il fulcro del tema che è stato dato dal Ministero e da tutta la cultura internazionale internazionale l'accessibilità la sostenibilità intesa proprio come coinvolgimento coinvolgimento non soltanto da studiosi non soltanto da persone specialistiche ma coinvolgimento a 360 gradi anche emotivo al tema e al tema una collezione e quindi per noi è il nostro pane quotidiano cioè noi abbiamo sempre fatto questo abbiamo sempre cercato di trasformare delle fonti storiche quindi dei dati certi non inventati non storielline e in questo caso le fonti storiche sono dell'Oliveriana e del Cracchivio di Stato quindi siamo assolutamente sicuri in una storia in una narrazione in un racconto che cerchiamo di fare in maniera molto leggera molto piacevole ma non semplificato non banalizzato quindi Wallscape proprio può guardare in modo diverso il paesaggio che in questo caso è il paesaggio urbano e guardarlo attraverso questo tema in che modo tra 7 e 800 Pesaro abbia avuto un grande contributo verso l'accessibilità alla cultura questo ce lo dicono i documenti noi cercheremo di raccontarlo e cerchiamo di farlo ogni volta che organizziamo un Wallscape Date e orario del Wallscape? Alle 17 ci incontriamo davanti a Palazzo Mazzolari Mosca in Via Rossini e poi partiamo per poche tappe le ultime due tappe saranno la Biblioteca Oliveriana e l'Archivio di Stato perché lì dedicheremo un po' più di tempo alla visione dei documenti Siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale anche questa sera e allora questa sera in prima serata su Rossini TV alle 21.20 potrete vedere se non avete partecipato la Sagra della Polenta a Montecchio arrivata la diciottesima edizione e poi subito dopo alle 21.40 invece vedrete la serata conclusiva la serata di gala dell'International Police Awards Arts Festival che abbiamo chiaramente ripreso e che è andata a chiudere un festival per la prima volta a Pesaro Domani consueto appuntamento con la Rassegna Stampa quindi l'informazione vi aspetta alle 7.20 in diretta con il nostro Daniele Sacchi mentre io vi aspetto sabato 24 settembre che San Terenzio Patronio di Pesaro ci sarò io con voi in diretta alle 7.20 per leggere assieme a voi i quotidiani locali e sempre nella stessa giornata alle ore 18 restate collegati su Rossini TV perché potrete seguire in diretta la messa dal Duomo di Pesaro grazie per essere stati con noi anche questa sera buon proseguimento in compagnia di Rossini TV grazie a tutti